Allora, carissimo Amedeo, non ho mai risposto in tutti questi mesi, non ho mai dato agio contro le cattiverie che mi sono state dette, che ci sono state dette, ma perché per me il GF è finito. È inutile che mi mandi questo messaggio e mi dispiace anche per i diretti interessati che vengono messe in mezzo, ma è una totale invenzione come tutte le invenzioni che tu dici delle persone che non ti vanno a genio e vai a difendere a volte anche situazioni e persone che sono indifendibili. Tutto questo lo fai, lo stai facendo e sono io che ti sto dando visibilità e non è il contrario in questo momento perché sennò non metteresti le sponsorizzazioni in mezzo a queste storie. Questo è il tuo lavoro, è giusto, ma come te ci sono tante persone che fanno gossip e lo fanno in maniera pulita, non come te che invece scarichi forse la tua cattiveria nei confronti delle persone, ma come me, come su tanti altri personaggi o persone, chiamale come vuoi tu. Perché io non ho mai parlato male di nessuno, non ho mai mancavo di rispetto a nessuno, anzi ma perché non fai vedere di quando ti inviavo dei messaggi per starti vicino anche in situazioni tue delicate che non sto più a raccontare? Ecco, questo però non lo fai. Oggi hai superato il limite, come l'hai superato quando magari facevi intendere di andare contro a una ragazza a livello fisico non sapendo delle debolezze o quello con cui combatte la gente, proprio come fatto oggi. Io spero che la gente che ti segua si renda conto che il gossip e la cattiveria sono due cose diverse.